Lei non però c'è? Ma si, e' questa? Si! Io non lo faccio! E' questa signora è la lenda, è che cosa c'è? Lei, 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 vedete? Il suo dentifizio... Non lo sa, non lo sa, non lo sa come dice. Nooo, chi era a mattina? Ma è lei? Ma è lei? Ma è lei? Non lo sa, non lo sa. La prima cosa cosa c'è? La prima cosa insegna la prima cosa... E' questa è la prima cosa... Non lo sa. E' questa energia, è un'esperienza... E' l'energia, è un'esperienza! Allora, va! Un vino, d'un vino, d'un vino, d'un vino, d'un vino... Grazie a tutti.